Ah, smannaggia, sono morto, vabbè, rifacciamo tutto d'acca C'è un popà di manca che fa Warning a huge battleship Che fa, come? Warning a huge battleship, Steve is approaching fast Come? Huge battleship, Steve, be like Ma? Ma? C'è un common block con una pressure plate Dovrei andarci, non lo so Io ci vado, bam Ma? Non c'è nulla Puh, cosa? Sì ragazzi, questa l'ho fatta io E si può capire che fa abbastanza schifo Invece, beh E fa abbastanza schifo E pensate che questa è la È una delle migliori costruzioni che abbia fatto Ecco Comunque esploriamolo insieme Guardate, qua c'è Il crow nest Qua c'è la tela con Steve A huge battleship Steve is approaching fast È per questo Poi Qua c'è l'albero maestro Qua ci sono dei dispenser pieni di fire charge Per colpire qualsiasi nemico Poi qua appunto c'è l'albero maestro Qua c'è il timone Fatto con Una mappa Dato che ho disegnato l'intero ma... Un intero bioma Per fare questo E ancora non mi è venuta bene Vabbè, pazienza Facciamo finta con un po' di fantasia Che questo sia un timone E poi qua sotto c'è sono... Vabbè, tutti Ora faccio, vediamo Barrel Che ne so, anche È anche una scorta Ci può essere anche una scorta qua Piena, lì Gold Diamanti Tipo così Che ne so, sparsi Poi anche l'oro tutto sparsa Poi qualche blocco qua Poi anche che ne so, qua i diamanti Poi qua anche i blocchi Sempre qua appunto questi Questi diamanti Ecco Così, ecco Ecco E qua ci sono tutti i bottini Anche Emerald Anche Emerald Così va A caso Poi i blocchi qua E ci facciamo tipo dei blocchi qua appunto Lo sto facendo a caso Vabbè Vabbè Piene di cose preziose E poi qua ragazzi Sono andato Posso cercare una shipwreck Per prendere una shipwreck Per prendere una shipwreck Beard treasure map Ho fatto sto coso Da notare un po' esplorato Se Altri tesori per questi pirati Questi pirati comandati da Steve Quindi Beard treasure map Poi Vabbè qua c'è questo E vabbè questa è la nave Avete un'idea Armour stand In teoria i pirati tipo hanno questa tipo di maia Di Calza maia proprio Questo poi ok